Devi essere veloce nel colpo Dai, ti stai guardando anche noi Dai, 1-2 più rapido, con un picchio in me, dritto direi Fai destra o sinistra adesso, al contrario, così Adesso più veloce Più veloce, così Sinistra o destra Destra o sinistra o destra Destra o sinistra o destra Prova Destra o sinistra Bravo, così 1-2 montante sinistra No, è troppo lento, non serve Come fai davanti, montante a destra Fai un passo indietro e montante a destra Prova Vinta col jab e pronta col montante a destra, ho capito Però ti ho detto, invece di aprire le braccia devi fare il montante a destra Non aprirle le braccia, fai il montante a destra Vai Ora No, montante a destra Sì Devi rientrare veloce, se no ti colpisce E tieni sulle mani Tieni sulle mani, chiuditi Ok 1-2, gancio montante 1-2, gancio montante Il gancio col perno Vai, vai subito No, è troppo lento, non serve Jab e gancio col perno Prova Ora, ci sono la finta a partire Jab dal lontano e il gancio col perno Montante Due minuti, mezza ripresa già passata e non stai vincendo Non stai vincendo 1-2, gancio col perno No, 1-2, no No, come lui Come lui, veloce Dritto il diretto, deve entrare in parte No, come lui